Finalmente ragazzi, posso fare questo video, lo stavo aspettando da tanto, da quando abbiamo creato questo logo, il logo dei musicisti consapevoli e abbiamo creato un po' di merch, qualche maglietta, qualche t-shirt, qualche felpa col cappuccio e oggi è arrivata la prima, il primo esemplare, l'ho ordinato io perché ho utilizzato un sito molto semplice che potete utilizzare anche voi, chiunque, per fare un merch molto semplice senza dover acquistare niente prima ma che praticamente vi permette di creare uno store e di scegliere i vari prodotti e loro si preoccupano di tutto il magazzino, le spedizioni e voi potete impostare i prezzi e decidere anche il margine di guadagno non dovete fare niente, dovete solo impostare il logo, creare i prodotti e poi venderli potete mettere il link su Facebook, sulle vostre pagine, sul sito, creerete merch, incredibile potete ordinarlo poi a voi, costa meno e lo potete portare nelle date e io ho creato il merch del musicista consapevole, dei musicisti consapevoli, scusate ma sono veramente gasato ho creato il merch dei musicisti consapevoli, tazze, magliette per uomo, per donna, felpe andate a vedere, link in descrizione, ordinate, io adesso ordinerò anche la maglietta e niente, link in descrizione, può essere anche utile come spunto per creare il merch della vostra band in maniera completamente gratuita, cioè voi non avete nessun costo e questa società però è straniera, credo sia americana, il pacco è arrivato da molto lontano comunque ci mettono pochissimo, loro che fanno stampano soltanto gli ordini che ricevono ok voi caricate tutto, poi se qualcuno compra stampano, quindi magari ci vuole un po' più di giorni per la stampa ma non tanto, loro in 2-3 giorni stampano, poi spediscono, poi ovviamente le spedizioni ci vuole una settimana in totale è arrivata in 8-9 giorni e dopo che l'ho acquistata questa felpa e quindi alla fine va bene, funziona bene, potete utilizzarlo come strumento e andate a vedere tutto il merch e se vi sentite musicisti consapevoli forse acquistare una delle magliette o delle felpe potete scegliere i colori, loro gestiscono tutto, le taglie, ci sono tutte le taglie, tutti i colori divertitevi, sbizzarritevi, potete ordinare quello che volete, potete crearlo per la vostra band io credo che sia veramente una soluzione molto 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 interessante per appunto creare il merch stampare il merch, le magliette, le t-shirt, le tazze e alla fine ve le ordinate sul sito anche per i concerti dal vivo, per andare dal vivo, le ordinate direttamente dal sito un po' di tempo prima, prima delle date, così comprate qualche unità e poi magari potete anche stampare il link e dire se volete, alla gente che è lì al concerto se volete vedere altri articoli che abbiamo, visitate il nostro sito e quindi diventa molto interessante link in descrizione per prendere il merch che ho preparato con il logo dei musicisti consapevoli bellissimo, realizzato da Leg, un artista, un mio amico, molto bravo grafico, street artist e chi più ne ha più ne metta io vi saluto, musicisti consapevoli andate a vedere il merch che abbiamo realizzato se volete ordinate qualcosa e noi ci vediamo al prossimo video Ciao!